musica 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 si io potrei fare ok e ti stringo ok ci può stare un po' di un po' di e quando non ho un po' di io sono infacciato e io li so di un po' ok e quindi dopo di che facciamo tipo un A un ce la faccio a caminare poi mi conto al po' di nuovo e la volta che mi tiro su fa davvero sperare è sbagliato posto no 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 giuro che è qui è qui musica 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 Ci hanno detto che dobbiamo dare la precedenza. Ma dov'è l'ospedale? Hai sbagliato strada! Ma te lo giuro che era qua! Ma dov'è l'ospedale? Hai sbagliato posto! Però te lo giuro che era qui! Ma dov'è l'ospedale? ... Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Pronti? Tore? Azione! Voglio parlare con un responsabile! Subito! Questo è il classico caso di malasanità! No, 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 no! Qui dobbiamo fare il primo piano nostro qua! Vedi quando... Con la copertina! Perfetto! Ci hanno detto che la sicurezza viene prima! Lui mi ha cambiato posizione e devo rifare tutto! Azione! Questo ce l'abbiamo fatto! Ce l'abbiamo fatto! Ce l'abbiamo fatto! Ce l'abbiamo fatto! Io voglio parlare con un responsabile! Subito! Dottore! Dottore! Presto! Ehm... Voglio parlare con un responsabile! Subito! Dottore! Dottore! Presto! Dottore! 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 Dottore!